Buongiorno a tutti, sono Diego Tripodi e la mia composizione, Sempre dove, per voce e violoncello, mi chiude questa splendida iniziativa, I sole distanti, che avrete avuto modo di apprezzare lungo tutta questa settimana. Sempre dove nasce da una suggestione poetica, dal testo dei giovanissimi letterati Daniela Brunelli e Leonardo De Santis, che hanno voluto effettuare una riscrittura dal testo originale del di Vander e di Schubert. Tuttavia c'è una sostanziale differenza tra i due testi. Se il Vander è ribiandante, il Schubert, è un io estremamente introverso, in Sempre dove invece è un io ossessionato dalla ricerca e dalla comprensione degli altri, gli altri che in questo periodo di reclusione e di distanziamento sociale hanno assunto un valore estremamente importante nell'affettività di tutti noi. Ho cercato dunque di riproporre tutto questo in musica e di fatti il violoncello e la voce si accompagnano vicendevolmente, si cercano, si inseguono raramente, tuttavia si raggiungono, perché vanno a ridisegnare quel rapporto proprio che è quello dell'io rispetto alla diversità, rispetto agli altri. E di tanti inseguimenti l'unico momento di coincidenza resta forse anche il tratto distintivo di una comune appartenenza umana, ossia il gesto di un respiro. Buon ascolto.